Il controllo di gestione per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese è il tema del forum che si è tenuto al salone delle conferenze dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. Durante il dibattito si è discusso di globalizzazione e fusione delle piccole imprese, il tutto per poter affrontare al meglio il mercato internazionale. Il forum è stato il primo di tre incontri promossi proprio dall'OdCheck Napoli Nord. Noi dobbiamo partire da un controllo di gestione che preveda innanzitutto un budget, una riportistica mensile e una definitiva riportistica di fine anno per comprendere al meglio qual è l'attività che deve eseguire l'azienda e qual è l'attività che deve eseguire il management. In questo ambito il commercialista entra in maniera assolutamente rilevante per quelle che sono le sue specializzazioni e per indirizzare le eventuali scelte sulla base di quella che è la riportistica che noi abbiamo individuato prima come budget iniziale e poi riportistica mensile e per indirizzare al meglio quelle che sono le funzioni aziendali. La buona organizzazione è sinonimo di crescita, bisogna avere coraggio, bisogna usare, questo consente anche di unirsi, di fare sinergie tra imprese e di essere un pochettino, porsi con una muscolatura più importante, più robusta ed è quello che in questo momento vuole anche il governo che ci sta credendo con delle misure interessanti. Ultimamente mi sto occupando molto della patent box che è una legge che premia chi investe su beni immateriali ma fondamentalmente chi investe in ricerca e sviluppo questi devono fare le imprese e anche se medio piccole per diventare più grandi. Il futuro è sicuramente quello dello sviluppo dell'attività internazionale, però è chiaro che per poter affrontare i mercati internazionali una piccola impresa in un mercato per appunto globale come diceva lei un minuto fa, rischierebbe di essere come una zanzara che punge un elefante per cui non sarebbe proprio avvertita da nessuno. Il problema è quello di poter aggregarsi, non necessariamente crescendo di dimensioni o rinunciando alla propria individualità, ma utilizzando al limite anche le opportunità che sono oggi disponibili, per esempio quella della legge sulle reti di impresa che è una condizione che offre opportunità per, come dire, aggregare su progetti specifici che possono essere, ovviamente devono essere realizzati sulla base di un piano strategico. L'obiettivo è quello di diffondere il controllo di gestione anche nelle piccole imprese, in particolare nelle piccole imprese, in quanto il dato italiano è un dato particolare, evidentemente negativo, esistono in pratica in Italia circa a livello industriale 3 milioni 8, 3 milioni 9, quasi 4 milioni di imprese, in Germania ce ne sono esattamente la metà e in Germania si produce il doppio del valore aggiunto, il doppio della ricchezza che in Italia. Questa frammentazione di piccole imprese determina anche una destrutturazione, cioè destrutturazione delle piccole imprese, cioè in pratica le imprese non sono strutturate, e come è successo anche nell'ambito commerciale, sicuramente o scompariranno o dovranno fondersi. È un ruolo importante quello del commercialista, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, perché deve dirigere e organizzare le aziende per risollevarsi dalla crisi, per cercare nuovi sbocchi, nuovi mercati, anche quelli internazionali, anche attraverso forme di aggregazione tra le imprese. È un ruolo fondamentale perché è la figura più vicina a quella dell'imprenditore, è il consulente di fiducia, è colui che in qualche maniera sa leggere all'interno dei bilanci, ma anche nella strategia globale che il piccolo imprenditore deve porre in essere. La premialità che finalmente il nostro governo... Grazie. 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 Grazie.